AHA I tell you about some plastic people just follow back and talk yes them left the gate out in a de niggla dem zaga war oh well say any day may rise it yeah oh get a youth when are afraid to exercise it ma diciamo che l'ho cominciato ad ascoltare sin da piccolo che abbiamo il sound saranno 4 anni 7 anni 3 anni e mezzo ehm niente suoniamo diciamo da 3 anni e mezzo ma tu ti sbagli da morire quando fai le serate vero? si mi piace non 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 che si scappa da queste cose a dire cinque sei persone siamo sempre quelle tre e mezzo sarebbe sempre quello che è fondamentale quando fai le serate della smettere comunità che deve avere prescindere perché se non ce l'hai mandare la sola parte non so 5 più 1 perché 5 più 1? perché 5 sono i componenti della famiglia quelli che l'hanno fondata, quelli che hanno gettato le basse io diciamo sono sempre stato un po' più off-side perché magari vengo da esperienze diverse perché non l'ho iniziato io perché sono il fratello grande o lo zio e quindi magari come un principio di non-invasione poi siamo sempre insieme è una cosa anche libera ma bene Per i miei generi passiamo tutti i generi che ricordano il regga al Roots, al Roots Foundation, fino all'Aden Solo, Bass, non ci sono, cioè, tutta. Però sì, a me particolarmente l'Aden Solo, devo dire che mi piace particolarmente il mio genere che mi indrippa di più. E' una famiglia, ma non so. Ci sono dei valori in una famiglia? No. In questa famiglia non ci sono? No, no, un legame stretto via l'amicizia. Si spera. In questa famiglia non ci sono?